Galleria di Giaione 2540 metri Grazie a tutti Grazie a tutti Non è questa Questa invece è lunga 1420 metri Grazie a tutti Questa invece è lunga 5241 Grazie a tutti Grazie a tutti Segnale GPS interrotto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti